Anche gli ospiti degli hotel di Sciacca Mare da stasera a mercoledì potranno assistere alle decorazioni all'aperto dei maestri ceramisti seccenzi nell'ambito di Sciacca, ceramiche d'autore. Iniziativa del Comune è giunta alla sua seconda edizione che prevede estemporanea nelle vie del centro storico all'altezza delle botteghe artigianali. Questo è uno dei motivi per i quali la conferenza stampa di presentazione dell'evento si è svolta stamattina al Torre del Barone. Noi puntiamo molto sulla ceramica, sulla valorizzazione della ceramica, tant'è che abbiamo riorganizzato questo festival, che è la sua seconda edizione, e naturalmente è importante perché stiamo lavorando molto anche con gli assessori regionali nell'ottica di valorizzare la ceramica. Voi siete qui oggi a Sciacca Mare perché c'è una partnership importante con il Gruppo Mangia? Sì, è una partnership importante, tra l'altro è quello che abbiamo sempre detto, bisogna collaborare con le attività locali, bisogna collaborare con le attività turistico-ricettive. Il Gruppo Mangia metterà a disposizione degli autobus che faranno la spola tra gli alberghi e Sciacca durante la serata del festival e questo sicuramente implementerà il numero di persone che potranno visitare le nostre botteghe ceramiche. Tra le iniziative condivise promosse dai sei comuni siciliani dell'Associazione Città della Ceramica, Burgio, Caltagirone, Collesano, Monreale, Santo Stefano di Camastra e Sciacca, anche un vero e proprio passaporto per i visitatori che acquistando i manufatti potranno ottenere sconti anche a un regalo. Noi come associazione nazionale che riunisce tutte le città della ceramica siamo particolarmente fieri e orgogliosi quando una città che fa parte del circuito organizza una manifestazione di così tale impatto. E poi, consentitemi da Saccense che fa parte di questo organismo, sono ancora più orgoglioso perché vedo che la mia città non interrompe il percorso di valorizzazione di un'antica arte che è cultura, tradizione e anche economia. Non solo ceramiche in programma in questi tre giorni ma anche esibizioni musicali che culmineranno mercoledì sera in Piazza Scandaliato con il concerto di Arisa. Ma da questa sera ci saranno anche momenti musicali con il Good Vibes Music Festival con la direzione artistica della cantante jazz Simona Trentacoste e con l'azione fondamentale svolta da Lorenzo Camarda, noto artisticamente come la ragione giusta. Ad esibirsi artisti vari, dei vari generi musicali, alcuni dei quali hanno superato un contest su Instagram, ci saranno anche Giamuria, giovani musicisti saccensi che stanno suscitando molto interesse. Per quanto riguarda infine le aspettative dello spettacolo di giorno 31 immagino che si sia lavorato anche sugli aspetti che riguardano l'ordine pubblico. Sì, si è lavorato tanto, naturalmente sull'ordine pubblico. Il 31 ci sarà tanta gente ma il 31 sarà preceduto anche da due giorni in cui ci saranno questo festival musicale che è il Good Vibes Music Festival che per me che sono un po' nostalgico degli anni 90 è un po' un festival bar alla siciliana che è veramente vedere tanti artisti nazionali e locali esibirsi e naturalmente porteranno in alto la musica siciliana. A ZTL sta funzionando secondo lei? Ci sono polemiche? Le polemiche ci sono però vedere il centro pieno con i negozi aperti come ieri sera è sicuramente un passo in avanti quindi è tutta una questione di abitudine e credo che i saccensi si stanno abituando all'idea di ZTL.